Alfabeta, vai da Natalina, fatti dare un caffè, eh? Subito, signore! Capisce subito al volo. Quanto zucchero nell'ombrello? L'ombrello lo prendo senza zucchero. Ecco il caffè. Guarda che Alfabeta si è ingrippato, dai un goccetto d'olio. Con un po' di caffè si ripiglia subito. Oh, ma è sicuro che è quello buono? Ma il tunine è la vazza. Eh sì, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? È qualità oro la vazza, in lattina nel pacco da 200 e in quello da 400 grammi che conviene di più. È la vazza, più lo mandi giù e più ti tira su.